BICICLETTA Bicicletta Non è solo libertà, aria in faccia, il fruscio delle ruote che girano e un bel paesaggio. La bicicletta è fatica. È quel dolore così intenso che ti fa pensare basta, cambio sport, non ne posso più. Perché la vetta è troppo lontana, di strada ce n'è da fare ancora tanta e le gambe fanno male. Invece puoi andare oltre, è una frazione di secondo, la follia che ti fa continuare, che ti fa pensare sì posso farcela. Perché non siamo solo materia, siamo risorsa, siamo energia, siamo magia, siamo oltre. Le vostre storie di sport, di fatica oltre il limite, le vogliamo raccontare qui, attraverso la vostra voce. 14 ottobre 2017, oltre, storie di campioni oltre il limite.